Un buongiorno e un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici con l'informazione e l'edizione meridiana del nostro telegiornale regionale. Sette cittadini stranieri, pakistani e afghani, sono stati rintracciati questa mattina dalla Polizia di Stato della Questura di Udine che è intervenuta con due volanti in uno stabile abbandonato privato di via Sguazzin nella zona est di Udine. Qui erano stati segnalati alcuni stranieri che bivaccavano. Nel mirino di Polizia Locale e agenti della Questura è finito un immobile di via Fratelli Sguazzin in strada del quartiere Aurora nella zona di via Riccardo di Giusto. Qui sono stati scoperti quattro cittadini afghani e tre pakistani alcuni dei quali richiedenti asilo sono stati denunciati tutti per evasione di edificio. Uno è stato denunciato anche per inosservanza del ritorno nel comune di Udine. Sul posto anche l'assessore comunale alla sicurezza Alessandro Ciani che sulla sua pagina Facebook plaude all'operazione. Un bellissimo esempio di collaborazione. Ora inizieranno i lavori di chiusura dell'immobile e pulizia dell'area. Voltiamo pagina. La regione, in regione sono oltre 2000 gli infermieri che potrebbero usufruire della quota 100. Sicuramente sono 800 quelli che invece potranno andare in pensione nel 2019 per raggiunti limiti di età. Preoccupato per la situazione e l'ordine delle professioni infermieristiche se ne è occupata Isabella Gregoratto. Le strutture sanitarie della regione entro il 2019 si svuoteranno di personale infermieristico. È l'allarme lanciato da Stefano Giglio, presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Udine, che analizza una stima sulla situazione dei pensionamenti. Entro la fine dell'anno, spiega Giglio, ben 2000 persone potrebbero usufruire della quota 100, mentre 800 sarebbero nelle condizioni di andare in pensione per aver raggiunto tutti i limiti previsti dalla legge. I numeri preoccupano soprattutto se si pensa che sul territorio ci sono complessivamente 10.500 infermieri e al momento non si conoscono le date per le prove del nuovo concorso, il cui bando è scaduto in gennaio, che prevede oltre 500 assunzioni a tempo indeterminato. La preoccupazione maggiore è rivolta alla tutela delle prestazioni e quindi alla sofferenza che ci potrebbe essere da qui al periodo estivo nei reparti. La carenza di personale continua a Giglio, può mettere in difficoltà e comportare stress per chi lavora. E conclude lanciando un'idea a regione aziende sanitarie. All'Università di Udine si stanno laureando 35 infermieri. Per loro potrebbero essere istituiti da subito dei bandi per occuparli a tempo determinato. Sono risorse fresche e giovani e il mondo del lavoro ha bisogno di loro. È rottura sul contratto alla Metro Italia, leader nazionale della venta Alin Grosso. Lavoratori in sciopero per Pasqua anche a Tavagnacco e Trieste davanti al negozio friulano è previsto un sit-in dei dipendenti. Dopo oltre 40 anni di contrattazione aziendale, informa una nota della CGL, dal primo aprile scorso i lavoratori di Metro Italia sono senza contratto integrativo. La nuova compagine societaria subentrata da qualche mese ha infatti disdettato il contratto aziendale senza aver definito gli obiettivi, si legge ancora nella nota, e valutato le ricadute sul personale. Le trattative degli scorsi mesi hanno portato ad una rottura. Le richieste che Filmcams, CGL Fisascat Cisle e Wiltux Will hanno sottoposto l'azienda, affermano gli stessi sindacati, non sono state accolte, a parte un timide avvicinamento in materia di lavoro dominicale. Ad allontanare ulteriormente le parti, un'ipotesi di riduzione del premio di produzione e la mancanza di risposte concrete sul tema della sicurezza. Da qui la rottura allo sciopero proclamato a livello nazionale dalle categorie per tutte le sedi del gruppo, presente in Friuli, Venezia Giulia, Tavagnacco e Trieste. I lavoratori incroceranno le braccia domani, venerdì antivigia di Pasqua e giornata a forte intensità di acquisti, previsto anche un presidio dei lavoratori davanti al punto 20 di Tavagnacco dalle 10 alle 12. Non perdere mai la speranza e non accontentarsi di interessi sempre più piccoli, di soddisfazioni ed emozioni, a corto respiro. È il significato del messaggio pasquale dell'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Lo stesso messaggio, insieme ad altre riflessioni su tematiche generali, andrà in onda nello speciale in programma domenica, giorno di Pasqua, alle 12.45 e alle 19, lunedì 22 aprile alle 8.30. Davanti a un futuro sempre meno illuminato, con la sensazione che i cuori siano gravati da un'ombra di rassegnazione, l'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, quest'anno nel messaggio pasquale induce a non perdere la speranza, una speranza che non si spaventa di fronte né al male né alla morte. Perché è il messaggio di Pasqua, cioè Gesù risorto vuol dire che apre la speranza, perché noi, l'ultima porta che ci chiude la speranza è la morte, la morte chiude la speranza. Invece Gesù ha spalancato una strada oltre la morte. C'è una bellissima icona orientale, della Chiesa orientale, che è l'icona pasquale, che non rappresenta Gesù che esce dal sepolcro, ma Gesù che scende negli inferi, dove è schiavo Adamo, Eva e tutti i morti, prende per mano Adamo e lo fa camminare sulla sua croce che ha messo come ponte tra le porte spalancate dell'inferno che è nel nulla. Lo fa attraversare e lo porta con sé. Cioè Pasqua apre la strada della vita, per questo è la speranza. Diciamo che oggi di speranza e di speranza vera, come dico nel messaggio, c'è molto bisogno, perché il rischio è guardare verso l'orizzonte del futuro e vedere un orizzonte che va verso una luce sempre più fievole, sempre più crepuscolare, non una luce che illumina. Allora io penso che noi cristiani siamo chiamati a testimoniare la speranza. Controlli serrati in particolare in modo ai valichi confinari di Trieste per gli ingressi carichi, ingressi dove arrivano dei mezzi carichi di agnellini in vista delle festività pasquali. Al confine di Gorizia invece questo tipo di passaggi sono praticamente azzerati. Ma c'è un altro dato, per abbattere i costi del benessere animale si predilige l'invio di carni già macellate. Settimana Santa, settimana di Pasqua e alle frontiere i transiti di camion, carichi di agnellini non si contano, ma è cambiata nettamente la modalità con la quale la carne, tanto ricercata in questo periodo, arriva nella nostra regione. Se sino qualche anno fa l'arrivo di animali vivi superava alla grande quello di capi macellati, ora la tendenza si è invertita. Chi alleva e poi mette in vendita l'agnello preferisce cedere all'acquirente carne già macellata e pronta per essere trasformata. I luoghi d'origine dei cuccioli di pecora arrivano prevalentemente dalla Sardegna, dai paesi dell'est come Ungheria e Polonia, ma anche dall'Inghilterra. Ma come riferiscono alla polizia di frontiera di Gorizia, le cosiddette rotte degli agnelli sono cambiate nei tempi. Quando c'erano i confini al Vallico di Sant'Andrea in questi periodi si registrava un passaggio eccezionale di agnelli. Negli ultimi giorni non si sono infatti segnalati però passaggi da parte delle pattuglie schierate sul territorio. Ora, con la caduta dei confini, questo tipo di traffico si è concentrato nella zona confinaria di Trieste. Ma come detto, il mittente preferisce procedere alla macellazione, ma non in regione, visto che non ci sono più strutture. Si trovano invece nelle Marche e in Abruzzo. Con questa modalità, ci ha spiegato un veterinario in cui è scienza, si evitano i costi di trasporto condizionati dal cosiddetto benessere animale, che altrimenti farebbe schizzare all'insù il prezzo per il consumatore finale. Alle frontiere di Trieste i mezzi vengono controllati in maniera meticolosa con la verifica della documentazione di accompagnamento del carico e con un controllo a campione degli animali presenti sull'automezzo. Nell'ambito della stagione teatrale dell'ERTE, i The Black Blues Brothers, si sono esibiti all'auditorium del Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Dopo i concerti jazz, l'auditorium del Centro Civico di San Vito al Tagliamento ha ospitato la scintillante impresa dei The Black Blues Brothers, quintetto di acrobati americano, ma con l'Africa nel sangue, protagonisti di un energico show ricco di musica, divertimento ed acrobazia. Era un evento organizzato per il circuito ERTE, interregionale teatrale dall'Associazione Culturale Circo ed Intorni. Già protagonisti di una tornea europea con oltre 450 repliche che hanno toccato numerosi festival, fra i quali il MAC Festival di Barcellona, l'International de Teatro Yachts de Cal N.P. Canarie e l'Internazionale de Children's World di Torino. Con questo loro spettacolo, i The Black Blues Brothers inseguono i capricci di una scalcagnata radio d'epoca che trasmette brani a Rhythm and Blues per mettere in scena con un'incredibile carica di energia un vastissimo repertorio di discipline acrobatiche. Uno spettacolo adatto ad un pubblico universale e quello di San Vito non ha fatto certo eccezione sulle note della colonna sonora del leggendario film scandite da assalti mortali e piramidi umane, sbandieramenti e danze col fuoco. La pagina bianconera ovviamente è quella udinese. I bianconeri non sono riusciti ieri sera a raccogliere punti nel recupero della 25esima giornata di Serie A contro la Lazio. I gol di Caicedo e l'autogol di Sandro hanno condannato i bianconeri che hanno tra l'altro anche fallito un rigore con De Paul e quindi l'udinese rimane ancora nella zona rossa, nella zona a rischio retrocessione. Ma sentiamo dalle parole dell'allenatore Tudor l'analisi di questa sconfitta. No, dispiace che la rigore non si è fatta con due, non si poteva riaprire la partita. Però niente, comunque Lazio ha fatto una buona gara. gli faccio complimenti. Noi comunque siamo stati penalizzati di un po' troppe assenze e qualche scelta che è stata fatta da parte mia. Però non perché volevo fare turnover è perché sono le nostre problematiche in questo momento. Di Pussetto che è infortunato, di Okaka che viene in un periodo di grande infortunio che non può fare tre partite, una settimana, d'Alessandro uguale che viene da un grande problema, poi Fofanà ha avuto un problema alla coscia, non è venuto, c'è Teraves che è un terzino che poteva oggi essere utilizzato, lui è stato fuori, infortunio di Berami, di Okaka, di Opoco scusi. Queste cose ci sono verificate un po' troppe per noi in questo momento. Però io ho detto ai ragazzi subito dimentichiamo questa partita più presto possibile e concentriamoci su Sassuolo che ci sono solo due giorni di recupero. L'Udinese che se la vedrà proprio con il Sassuolo sabato pomeriggio. Bene, è veramente tutto, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, un saluto al regista Campigotto e al tecnico audio Stefano Paussa, vi ricordo adesso la sigla, la pubblicità e poi ovviamente a voi la linea con tutti gli approfondimenti di Cronac. Grazie, se dovete pranzare, buon appetito. Grazie, se dovete pranzare, buon appetito.